scuole reperite le aule mancanti a 48 ore dalla prima campanella due sedicenni colpevoli di tre notti di incendi dolosi la fiera di san nicola prova il ritorno ai numeri precovid no allo sfruttamento di animali proteste davanti al circo orfei di pesero sotto passaggi d'arte continua a trasformare il degrado in capolavori buona serata a tutti voi amici amici di rossini tv ben ritrovati ad una nuova settimana in compagnia dell'informazione di rossini news e settimana che comincia con questo telegiornale di lunedì 12 settembre che apriamo parlando di scuola perché manca davvero poco la prima campanella dell'anno di mercoledì 48 ore in cui si stanno ultimando le ultime urgenze a cominciare dal reperimento delle aule mancanti come ci spiega questo nostro primo servizio a 48 ore dalla prima campanella sull'anno scolastico 2022 2023 la provincia risolve la grana delle aule mancanti nelle scuole superiori di pesero ben nove classi 5 al bramante genga e 4 al liceo marconi rischiavano infatti di non avere una dimora al primo giorno di scuola a causa di un complicato gioco di incastri fra iscrizioni in crescita e aule mancanti o che si è tardato a riqualificare oggi però il presidente della provincia giuseppe paolini ha dato riscontro di esiti positivi nella lotta contro il tempo comunicando che l'ente ha trovato soluzioni interne al campus per le aule che mancavano all'appello per la provincia è una duplice soddisfazione si sono infatti recuperati gli spazi e si è pure evitata la migrazione verso strutture esterne al campus nello specifico al bramante genga sono state recuperate tre aule che erano inagibili per le infiltrazioni grazie ai lavori condotti dall'ufficio tecnico provinciale mentre per il ceo marconi si riusciranno a ottenere tre aule dagli spazi finora utilizzati dalla biblioteca con libri che saranno ricollocati a breve in altra sede idonea un sospiro di sollievo dopo un complicato lavoro interforze fra provincia comune e ufficio scolastico le immagini che invece vi mostriamo ora si riferiscono al ripristino della circolazione stradale effettuato ieri sotto il ponte di santa veneranda grazie all'accelere intervento di società autostrade società che ha ripristinato i danni conseguenti al camper vandalizzato e dato alle fiamme la notte precedente che aveva fatto seguito anche a un incendio doloso del giorno prima quando era stata distrutta dalle fiamme un'auto in zona campus secondo di tre giorni di incendi perché pure giovedì come anche raccontato nel nostro tg furono dati alle fiamme un'altra auto e quattro cassonetti i responsabili sono stati rintracciati nel weekend sono stati individuati si tratta di due sedicenni appunto denunciati per tre folli notte notti di incendi dolosi dopo gli interrogatori di ieri ora si attendono i provvedimenti del tribunale ancora cronaca perché nella notte fra sabato e domenica a pesero in viale napoli c'è stata una rissa che ha coinvolto circa 15 persone erano infatti le due di notte quando qualcuno ha chiamato i carabinieri dopo aver riscontrato episodi di pugni urla e gente che rantolava a terra una pattuglia in borghese arrivata sul posto e quasi tutti i ragazzi coinvolti sono fuggiti quasi perché una coppia pesarese lui di 30 anni lei di 23 sono rimasti ad affrontare i due militari alla richiesta dei documenti due hanno resistito con pugni e calci iniziando a insultare i carabinieri nel frattempo è giunta sul posto un'altra volante che ha bloccato la coppia portandola in caserma dove per i due è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale immagini che invece ora ci arrivano da fano dove questa mattina in via dei borgoggelli si è aperta una voragine nella strada a causa di una rottura alla rete idrica il cedimento ha interessato principalmente la strada di fronte all'immobile del civico 55 attualmente inabitato ma precauzionalmente i vigili del fuoco insieme al comune di fano hanno dichiarato inagibili i civici 53 e 57 i cui residenti di quest'ultimo sono stati fatti evacuare in queste ore i tecnici comunali e tecnici di aset lavorano per ripristinare la falla e accantoniamo la cronaca e cambiamo argomento perché questa sera si conclude la fiera di san nicola nel lungomare di pesero la prima ritornata alla normalità dopo le ultime due edizioni che ricorderete hanno visto quella del 2020 cancellata dalla pandemia e quella del 2021 limitata da mascherine e obbligo di green pass oggi abbiamo fatto un giro fra gli ambulanti pesaresi per capire se anche affluenza e acquisti sono tornati a livelli precovid ultimo dei tre giorni della fiera di san nicola dopo il sabato e la domenica il lunedì saluta l'edizione 2022 dell'appuntamento di settembre tradizionale della fine estate pesarese una fiera di san nicola che cerca di riannodare il filo un po con l'epoca precovid ricordiamo le ultime due edizioni quella 2020 cancellata dal covid quella del 2021 ripartita con le limitazioni da mascherine green pass quest'anno si è tornati alla normalità e si è tornati davvero con un record di ambulanti presenti 550 in questa edizione della fiera si è trovato un po di tutto categorie merceologiche le più tradizionali le più disparate c'è stata anche la novità di uno spazio tutto dedicato alle bancarelle allestite dai bambini a ridosso della palla di pomodoro abbiamo raccolto un po di pareri su questa edizione della fiera tra gli ambulanti sia tra quelli tradizionali che frequentano la fiera di san nicola davvero da tanti anni e hanno anche un raffronto con le epoche precedenti e con chi è arrivato per la prima volta sono dieci anni che vengo qui alla fiera quindi ha visto il precovid e questa ripartenza del covid come sta andando adesso un pochino a rilento però dai quest'anno è andata anche abbastanza bene la gente c'è stata siamo ai livelli precovid no forse adesso anche il problema magari un po della crisi un po però no prima era la fiera prima erano tutta un'altra un'altra cosa magari c'è più voglia di fare la passeggiata che l'acquisto si vedi una marea di gente a passare ma con le mani vuote c'è tanto tanto davvero tanto passeggio però gli acquisti sono diminuiti dall'anno scorso davvero tanto oddio saranno le spese che sono arrivate veramente alle stelle per tutte le famiglie però meno meno acquisti ma tanto passeggio però io so che la fiera è molto sentita qui quindi la gente viene apposta paesi limitrofi però c'è tanta 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 gente bella gente sottolineo non è come una volta una volta una persona comprava due maglie tre maglie oggi oggi come oggi uno e sono un po frenato io penso meglio un piatto sulla tavola che una maglia in più la gente c'è stata contento come è andata fino adesso dai gente c'è stata poi dal mio articolo sono stato contento non può vedere agli altri logicamente non è tutto uguale sono un ambulante abituale sì di cattolica noi siamo sul porto di cattolica normalmente facciamo anche la fiera di san nicola ecco quindi ha visto l'evoluzione della fiera negli ultimi anni dopo l'esperienza col green pass quest'anno si è tornati a regime pieno c'è affluenza e l'affluenza risponde anche a in acquisti assolutamente sì siamo tutti contentissimi ho parlato anche con i nostri colleghi e tutti siamo felici di averla rifatta ed è bella piena di gente come si può vedere per lei invece la prima volta la fiera di san nicola dunque si riparte dopo il covi di green pass e quindi ha deciso di buttarsi questa avventura ciao come prima esperienza anzi è la prima volta che vengo a pesaro anzi una bellissima fiera anche le giornate anche come tipo di lavoro è andato diciamo discretamente dopo il covi è andata ottima da quello che ho visto io poi se l'anno scorso è stato migliore non lo so come prima esperienza la vedo benissimo dopo il covi ci può stare anche che qualcuno si è trattenuto per fatto del covi c'è qualcuno che porta ancora mascherine si trattiene ma c'è stata una buona vendita tra i problemi di questa edizione della fiera diversi ambulanti pesaresi soprattutto quelli più tradizionali hanno sottolineato l'elevato costo dei degli stalli da affittare per questa edizione della fiera vediamo cosa ci hanno risposto gli ambulanti che abbiamo ascoltato per i tempi di oggi sono proprio anacronistici una roba esagerata perché se prima magari riuscivi a sopportare meglio ma adesso i costi sono sono una roba esagerata perché venendo solo io che sono da solo che poi vengo da qui vicino vengo ad orbino 550 euro al posto dormire qui mangiare qui tanto lavori dalla mattina alle sei fino alla sera a mezzanotte luna la giornata ci deve uscire quindi i costi sono esagerati c'è stato questo riscontro perché penso che adesso il caro bolletta fa aumentare un po i costi del del prodotto e si vedono un po i rincari e la gente dice i commercianti si lamentano perché non c'è una grande vendita per il fatto dei rincari questo non è un problema di tutti perché tanto è aumentato tutto di tutti però speriamo di superare anche questo dai fiera di sanicola che coincide con uno degli eventi più caratteristici del settembre di fano quello con il brodetto feste che ieri ha concluso la sua ventesima edizione questa sera alle 21 20 vedrete lo speciale realizzato da rossini tv e dalla nostra nicoletta tagliabracci durante la serata di inaugurazione della quale vi forniamo qualche anticipazione in questo servizio gusto spettacoli e talent show il partecipato weekend al lido di fano ha reso onore al compleanno a cifra tonda di una delle eccellenze enogastronomiche marchigiane riconosciute a livello nazionale il brodetto di pesce incoronato dal brodetto fest che ha tagliato l'onorevole traguardo delle 20 edizioni 20 anni il proponiamo non un piatto non una ricetta ma proponiamo la promozione di un'intera città di un'intera regione oggi perché il brodetto il brodetto è diventato la ricetta è diventata il piatto identificativo di una città e non solo ma di una regione intera perciò uno dei tanti obiettivi che abbiamo raggiunto in questi 20 anni è proprio quello di aver proposto un piatto che oggi viene riconosciuto a livello internazionale come il piatto della regione marche questo ci rende molto orgogliosi perché quando siamo partiti vent'anni fa l'abbiamo fatto con due tavoli un ristoratore con una pentola di brodetto oggi abbiamo una un evento che tra i primi eventi della gastronomia italiana e questo ci rende assolutamente orgogliosi è un bel festival tanta gente tanta gente che viene anche da fuori apposta per il brodetto quindi che dire quando la gente partecipa e c'è tanta tanta presenza penso sia il riconoscimento più bello che si possa avere in fondo anche la cucina esprime l'identità di un territorio e il fatto che ci siano tutti questi movimenti a cominciare dall'accademia dimostra l'importanza e il valore anche culturale che ha ed è anche un'occasione di valorizzazione del suo territorio perché qui non è solo Fano oltre al brodetto valorizziamo altre eccellenze a cominciare dall'olio a cominciare dal vino il bianchello una buona zuppa deve essere accompagnata da un buon bicchiere di vino d'altronde quindi tutto un insieme che rendono interessante che danno valore a questa manifestazione lasciatemelo dire mi sento anche orgoglioso di essere il sindaco della città di Fano che ospita il brodetto fest tanti gli ospiti presenti alla tre giorni a cominciare dall'attore Gianmarco Tognazzi che ha fatto da cerimonieri dell'apertura raccontando la sua parallela professione da produttore di vino assolutamente abbinabile al brodetto la mia passione è il vino ed è diventato il mio lavoro cosa ho fatto non ho fatto altro che trasformare il gioco di ugo con cui per anni si è divertito con i suoi amici utilizzando per cucinare solo i prodotti che venivano dalla sua terra quindi anticipando il biologico il chilometro zero parliamo degli anni sessanta e già aveva questa intuizione io mi sono concentrato sul vino e la Tognazza che è questo posto dove noi siamo cresciuti e dove lui faceva queste cene l'ho trasformata in un gioco per gli amici in un lavoro ma anche un gioco per gli altri amici cioè per il pubblico e quindi il vino che si faceva in casa è diventato ovviamente diverso ed è diventato il vino della Tognazza anche per il pubblico che l'ha tanto amato questo weekend l'arrivo delle circo Orfei a Pesaro è stato accompagnato da presidi di dissenso verso uno spettacolo reputato anacronistico crudele e irrispettoso della natura selvatica degli animali vediamo la protesta in questo servizio bimbi non portate le mamme a vedere animali imprigionati il vostro biglietto è la loro sofferenza perché non vi mettete voi a quattro zampe venendo frustati se così divertente sono questi alcuni dei messaggi che sabato sono stati sventolati su cartelloni e intonati a suon di slogan ecori due i riceventi dei messaggi il circo Rolando Orfei che venerdì scorso è tornato a Pesaro riportando dopo otto anni di assenza uno spettacolo con animali esotici che ha sollevato il dissenso per uno show reputato anacronistico crudele e irriguardoso della natura messaggio recapitato altrettanto a chi alimenta questo business continuando ad assistere a questo genere di spettacoli mittenti del messaggio le associazioni animaliste oipa e empa che sabato hanno apparecchiato un presidio di dissenso pacifico davanti al tendone del circo che si tratterrà in zona torraccia fino al 25 settembre siamo qui perché è semplicemente anacronistico ed incredibile che nel 2022 ancora esista il circo con animali sono venuti a Pesaro dei circhi meravigliosi il grito abbiamo avuto il circo panico esistono delle alternative credibili e meravigliose fruibili senza violenza e senza bisogno di riproporre uno spettacolo che è patetico perché per nessuno può essere veramente bello vedere un leone che salta nel cerchio di fuoco o l'elefante che salta su due zampe allora siamo arrivati ad un livello di consapevolezza tale per cui veramente tutti sappiamo che questo non fa ridere e sappiamo anche abbiamo anche un livello di coscienza tale per cui sappiamo cos'è l'empatia è questo che va insegnato ai bambini non a ridere di una creatura che sotto la violenza di una frusta o di qualsiasi altro metodo possa essere utilizzato privato della possibilità di vivere nel suo abitato naturale stia qui al troni un elefante una tigre una zebra una foca qualunque di qualunque creatura stiamo parlando non deve stare qua lo sappiamo tutti non fa ridere non ci piace non lo vogliamo io faccio un appello a tutti i genitori che pensano che portare i figli al circo sia sinonimo di divertimento per loro in realtà lo può essere perché un bambino vedere gli animali non ha non pensa che l'animale dietro possa essere tenuto male no lui vede un animale e dice che bello però un genitore adulto deve capire che se vuol far divertire i figli e vuol fargli vedere gli animali in realtà li porta in posti dove vedono gli animali liberi facendo una passeggiata nel bosco portandoli in posti dove vedono effettivamente la realtà delle cose dove vedono vivere gli animali liberi felici senza essere addomesticati a fare cose innaturali e quindi io vi chiedo questo a tutti i genitori dovete pensare che portarli al circo non è educativo per loro ma è più educativo portarli in mezzo alla natura e sperare di vedere questi animali liberi e felici io sono qui oggi per un duplice motivo il primo è a sostegno di tutti coloro che hanno organizzato questa manifestazione quindi a partire dall'OIPA dall'EMPA tutte le guardie zoofile che ogni giorno lottano per il benessere degli animali sono qui oggi con voce ferma pacifica ovviamente ed equilibrata a dire basta al circo con gli animali alle soglie del 2023 sembrava una cosa scontata ma ci rendiamo conto che ad oggi ancora non è così e la seconda motivazione che mi porta qui ad essere oggi è la tutela dei lavoratori del circo perché il circo è composto non solo da animali ma da persone che ci lavorano da artisti da atleti che lavorano all'interno di questa struttura grazie ad una legge delega all'interno della legge spettacolo di quest'anno approvata all'unanimità alla camera a luglio 2022 il governo il nuovo quello che verrà adesso perché ormai siamo in fase di chiusura della vecchia legislazione avrà nove mesi di tempo per far sì che questa legge di vieto di utilizzo degli animali nel circo diventi effettiva a tutti gli effetti bene noi siamo qui a chiedere che diventi subito effettiva e sostegno il sostegno che dà il governo ai circhi diventi sostegno alla riconversione dell'attività del circo stesso quindi il circo ad oggi avrà due anni di tempo per riconvertire le proprie attività per concentrarsi su quella che è l'arte dello spettacolo l'arte ludica dello spettacolo e l'arte circense che vanno valorizzate e promosse senza l'utilizzo di animali siamo qui per questo in maniera del tutto pacifica e veramente equilibrata per dire basta animali tuteliamo il mondo del lavoro dei circense il comune di pesaro ha esternato nei giorni scorsi ai microfoni di rossini tv il dissenso per la manifestazione ma anche l'aver mani amministrativamente legate ad impedirlo dal presidio si invita però a un atto di coraggio ulteriore anni fa c'era stata diciamo una sensibilizzazione proprio politica in merito alla possibilità di varare un'ordinanza anticirchi perché non si può proibire ad un circo di venire in città ma ci possono essere delle ordinanze anticirchi in assenza di queste chiaramente un circo è libero di venire perché il comune di pesaro il consiglio comunale non approva un'ordinanza come questa in altre città è possibile è stato possibile perché qui no capisco non è un'urgenza non è una priorità si dice sempre così però non è neanche una cosa che probabilmente richiederebbe tanto tempo sarebbe un atto di civiltà di cui potremmo andare fiori pesaro città della cultura facciamolo vedere in una città come pesaro capitale della cultura 2024 mi starei aspettata un po' di coraggio in più almeno nell'adottare dei regolamenti interni al comune stesso che impedissero dopo otto anni il ritorno in gran pompa magna con tanti manifesti tanti appesi ovunque anche dove non si poteva appenderli in pieno centro storico piuttosto che sulle vetrine piuttosto che sui lampioni ecco cose che magari andrebbero un pochino più regolamentate in maniera anche un pochettino più forte quindi mi sarei aspettata una presa di posizione un pochino più coraggiosa capendo però come l'amministrazione abbia più o meno mani legate sotto questo profilo e mi auguro che in futuro si possa essere più unione di intenti associazioni di categoria piuttosto che associazioni animaliste e di tutela del mondo del lavoro anche i sindacati per riuscire a dare un'unica voce senza confusione senza possibilità di essere in qualche maniera smentiti un'unica voce che dica quello che abbiamo detto noi fino adesso quindi basta animali sì al lavoro nell'arte circense zone grigie che continuano a colorarsi di opere di street art sempre più accattivanti e questo il risultato di sottopassaggi d'arte urbana un progetto che da due anni continua a trovare tele su luoghi di transito cittadini è un progetto che non vuole fermarsi come ci spiega questo servizio nell'ultima primavera estate altri tre sottopassaggi di pesaro si sono riqualificati all'insegna della street art dall'opera falese al san decenzio realizzata attraverso un workshop guidato dallo street artist albero nero a intergalactic di via gradara omaggio dell'artista luogo comune fino a urban funky di via raggi che ha elevato l'arte di claudio sale tre lavori coordinati dall'associazione pesarese reperti urbani che rappresentano un salto di qualità ulteriore al già accattivante progetto sottopassaggi d'arte urbana coordinato per il comune da massimiliano santini l'obiettivo è sempre lo stesso rendere arte luoghi grigi trascurati della città come i sottopassaggi ma se il primo anno il compito è stato affidato ad artisti locali spesso impegnati in grandi opere fuori città in questa seconda edizione si sono invece armati di bombolette alcuni dei più affermati street artist del resto della penisola ne abbiamo fatti diversi l'anno scorso uno solo quest'anno e tre tutta l'estate è stata super impegnata con tre diversi completamente diversi artisti tre modi di lavorare completamente diversi nelle tematiche e siamo qui proprio oggi per spiegare quest'estate lunga e piena di appuntamenti che ha reso ancora di più l'associazione reperti urbani più più grande con nuovi associati oggi in comune l'associazione reperti urbani ha donato al sindaco matteo ricci una serigrafia dell'opera a falesia una delle più apprezzate dal primo cittadino che si è detto assolutamente convinto di un progetto che si vuole proseguire compatibilmente alle risorse per portare ad un percorso definito di street art in occasione di pesaro capitale della cultura 2024 già perché non va dimenticato che non c'è solo l'abbellimento di zone grigie degradate c'è pure il valore aggiunto che il colore lo portano street artist di fama internazionale i nostri lavori iniziano mesi e mesi prima con l'individuazione di una parete e successivamente l'individuazione di un artista che può essere assolutamente inserito in maniera idonea nel luogo e lo si contatta e si mette in moto tutta un'organizzazione che va dal suo viaggio dall'ospitarlo dal farlo entrare nel nel mood pesarese nel nelle radici della nostra città e questo lo guida nella realizzazione dei suoi interventi gli artisti che invitiamo lavorano su pareti ormai da da anni e sono artisti internazionali e noi oltre a riqualificare portiamo proprio del museo d'arte a cielo aperto quindi con nomi molto molto forti nell'ambiente della street art ed è davvero inarrestabile la crescita degli itinerari della bellezza nella provincia di pesaro e urbino l'ennesimo comune che aderisce al progetto di promozione turistica di confcommercio marche nord e quello di isola del piano che porta a 18 i comuni dopo che piobbico era stato di recente il diciassettesimo nella foto vedete il patto suggellato dal direttore generale americo varotti con il sindaco di isola del piano giuseppe paolini e continua il programma dell'international police award festival che vi stiamo raccontando tutti i giorni anche nei nostri spazi informativi si tratta della manifestazione che racconta le forze dell'ordine al cinema in tv nella letteratura nella musica nell'arte e nello sport come vedete in grafica questa sera alle 21 nella corte di palazzo mazzolare mosca pesaro ricorderà adolfo cieli nel centenario della sua nascita attraverso il docu film adolfo cieli un uomo per due culture ma vediamo anche gli appuntamenti di martedì 13 settembre quando alle 17 e 30 nella corte di palazzo mosca enrico franceschini presenterà il suo libro il suo libro il suo ultimo libro un'estate a borgo marina si tratta di un giallo che affonda le radici nella storia una commedia stile fellini sull'amicizia sullo sfondo del mito nazional popolare delle vacanze italiane franceschini franceschini ricordiamo è scrittore e giornalista è ricoperto il ruolo di corrispondente per la repubblica nelle sedi di londra new york washington mosca e gerusalemme e poi alle 21 al teatro sperimentale la prima mondiale del documentario siamo qui siamo vivi che racconta la storia di alfredo sarano e della sua famiglia scampati alla shoah un documentario tratto dal libro di roberto mazzoli con prefazione di liana segre prodotto da armand giulian e diretto da daniele ceccarini arriviamo alle 21 e 30 dove sempre al teatro sperimentale ci sarà la proiezione del film aria ferma vincitore di due nastri d'argento e due davidi donatello diretto da leonardo di costanzo con toni servillo e silvio orlando che saranno anche presenti alla serata e in tema di libri sempre domani martedì 13 settembre alle ore 18 alla gelateria germano di piazzale della libertà vi segnaliamo l'aperitivo con l'autore e con le letture di fine stagione in cui il matematico gian italo bischi e l'ambitalista marco monari dialogheranno con giorgio franceschelli autore dell'ultima spiaggia e tiziano mancini autore di l'ultima carta e acqua vite grande successo invece ieri per la seconda edizione delle trofeo iopera organizzato dallo smash paddol in beach che ha avuto luogo a pesaro nei campi di paddol di baia flaminia la pioggia iniziale stava però per rovinare i piani della mattinata ma fortunatamente l'organizzazione è riuscita a far fronte a questa a questa problematica spostando uno dei due gironi nei campi coperti dello smash city di via toscana mentre l'altro girone è stato mantenuto nei campi di baia flaminia a vincere questa seconda edizione del trofeo è stata la coppia mista composta da amadio e bigonzi che ha avuto la meglio sulla coppia del chierico forconi un centinaio partecipanti compreso il sindaco matteo ricci partecipanti le cui quote di iscrizione sono state devolute per il secondo anno a sostegno dell'assistenza domiciliare ai malati portata avanti dallo iopera e rimaniamo sullo sport quello professionistico perché è stata buona la prima casalinga per la vispesaro e l'alma juventus fano nei campionati di calcio di serie c e di serie d che si è tenuta ieri una bella vis ieri al benelli ha battuto il fiorenzuola il fiorenzuola 1 a 0 grazie ad un gol di francesco fedato in apertura di secondo tempo visse vincente e convincente in una prestazione in cui ha creato tante occasioni nel primo tempo cogliendo pure un palo con fedato e fallendo un calcio di rigore con cannavo la vis sale a quattro punti dopo due giornate così come il fano che ieri al mancini ha gioito battendo 2 a 1 il quotato pineto grazie alle reti granata di padovani e di broso e dal calcio concludiamo lo sport ma anche il nostro notiziario parlando di volley all'indomani delle trionfo azzurro in polonia della nazionale questa mattina la megabox vale foglia ha presentato in quel di sant'angelo in lizzola la sua nuova divisa per il precampionato la squadra di pallavolo femminile della megabox valle foglia e la sua città d'appartenenza si mescolano sempre di più un'unione rinnovata oggi dalla presentazione delle nuove maglie da gioco che le ragazze di coach buonafede useranno per le amichevoli di precampionato una divisa pittoresca creata da michele annibali e realizzata da errea che riporta sul suo tessuto le peculiarità e i luoghi più simbolici del comune di valle foglia e non solo dalla corona la ghirlanda presenti nel logo della città dall'antica mappa del territorio al castello di montefabri fino a passare per ponte vecchio e i torricini del palazzo ducale di urbino la città che anche per questa stagione ospiterà le partite casalinghe della squadra del presidente ivano angeli questa nuova maglia ideata per valorizzare il territorio la useremo come hai detto tu nella fase precampionato quindi la prima uscita che faremo sarà questo weekend che andremo in Valtellina a Sondrio dove ci sarà il primo quadrangolare di quest'anno a cui parteciperemo saranno quattro squadre Vallefoglia, Bergamo, Bustorzizio e Cremona sarà già un test importante per vedere la qualità della squadra questo è il primo debutto poi seguirà il 24 di settembre in casa la prima amichevole casalinga contro la Balducci Macerata e poi i primi di ottobre andremo a fare un quadrangolare a Casal Maggiore e poi ci sarà il classico chiusura delle amichevoli nel torneo di Firenze dove saremo ospitati e dove saremo già in fase avanzata di preparazione dove ci sono dei test molto importanti una soddisfazione per noi importante grazie a Angelia Megabox e grazie a coloro che ha riassunto i rapporti fra la città di Urbino e la città di Vallefoglia attraverso la figurazione di Montefabri e di Ponte Vecchio i legami tra il Duca Federico e Ponte Vecchio con il vecchio Molino molto legato a Urbino testimoniano i rapporti e le relazioni fra queste due città ci auguriamo ovviamente che sia di buon auspicio anche perché ci siano tanti spettatori alle partite che si svolgeranno a Urbino e abbiamo anche buone ragioni per pensare che quel 1.600.000 euro per portare a 8 metri e 1.500 posti al palla di Onigi da parte dello Stato nel PNRR possa avere chance e che può aumentare enormemente anche la partecipazione a vedere le partite Sicuramente la squadra è secondo me ben costruita c'è molto equilibrio in tutti i reparti ci sono personalità forti tante italiane tanto entusiasmo tanta voglia di far bene vedo su ragazzi giovani quindi c'è un bel mix di esperienza e di gioventù quindi secondo me è una bella squadra che può essere una bella sorpresa per il campionato però non voglio dire nient'altro non mi voglio sbilanciare troppo adesso ci saranno i primi tornei le primi amichevole vediamo i primi test come siamo Ti piace la maglia? Sì, molto, molto mi piacciono i colori adesso poi ci sarà quella ufficiale però come inizio è perfetto Come sei stata accolta a Vallefoglia? Benissimo, io ho bellissimi ricordi di quando ho giocato a Urbino ne ho lasciato Dax quindi non è uguale ma mi sento in famiglia conosco già i posti conosco un po' tutto e mi sento questi luoghi così familiari mi piacciono sono fatti per me e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo i nostri appuntamenti a cominciare dalla prima serata che vi abbiamo già anticipato all'interno del nostro TG alle 21.20 spazio alla ventesima edizione delle Brodetto Fest con il nostro speciale realizzato dalla nostra Nicoletta Tagliabracci vi ricordiamo poi che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa della provincia di Pesaro Urbino che in questa edizione del martedì sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi e poi ve l'abbiamo anticipato anche venerdì torna Green Tour torna il nostro format dedicato al verde della provincia alle bellezze del nostro entroterra una nuova stagione davvero da non perdere con tante bellissime immagini e bellissimi luoghi da scoprire così come suggestive e gustose tipicità enogastronomiche in questo programma realizzato dalla nostra Nicoletta Tagliabracci che andrà in onda tutti i martedì in prima serata prima di 5 puntate domani alle 21.20 sarà dedicata a San Lorenzo in campo e poi tutte le repliche che vedete dal mercoledì alla domenica repliche che vedete nella nostra grafica e dunque non perdetevi questi nuovi appuntamenti su Rossini TV termina invece qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata con i nostri programmi grazie a tutti i nostri programmi